Non si fermano le ondate di sbarchi di clandestini a Lampedusa. Da ieri sera fino all'alba di questa mattina si sono registrati circa 800 sbarchi di immigrati che sono riusciti ad approdare al porto Favarolo. Non solo profughi provenienti dalla Tunisia, ma anche dalla Libia. Questa mattina infatti un barcone con a bordo 400 extracomunitari provenienti dalla terra di Gheddafi è riuscita a schivare controlli e a raggiungere Cala Creta. A bordo dell'imbarcazione anche donne e bambini. Intanto sono riprese le operazioni di trasferimento degli immigrati dall'isola di Lampedusa in vari centri di accoglienza del meridione, Napoli, Santa Maria Capavetera e Catania. Intanto si è svolta ieri a Lampedusa la veglia di preghiera organizzata dal rinnovamento nello spirito in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento. Il luogo scelto dal presidente del rinnovamento nello spirito, Salvatore Martinez, è stata la piazza Garibaldi dove centinaia di persone si sono radunati in preghiera. Ieri è partita alla volta di Lampedusa una delegazione ai saggiardotti di Favara con in testa l'arciprete Don Mimmo Zambito.